Intensa attività anticrimine di polizia giudiziaria ed amministrativa del commissariato di Gela diretto da Francesco Marino con l'implementazione di quattro battuglie del nucleo prevenzione crimine di Palermo 410 le persone controllate e 200 i veicoli ispezionati passati a raggi X, 33 soggetti ai domiciliari, 53 sorvegliati speciali di pubblica sicurezza e 11 in libertà vigilata elevate 19 contravenzioni al codice della strada Un gelese di 40 anni è stato arrestato in esecuzione di un ordine messo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta Si tratta di Gaetano Davide Alfieri Deve scontare sei mesi di carcere per raccolta non autorizzata di rifiuti speciali tutela ambientale commessi a Gela dal 2010 al febbraio del 2012 Altri due gelesi di 60 e 58 anni sono stati ammanettati per costruzione abusiva e violazione di sigilli Il 60enne dovrà espiare 3 anni e 8 mesi, il 58enne 36 mesi di reclusione Un pluriprogiudicato di 66 anni è stato denunciato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per avere guidato un ciclomotore privo della patente di guida perché revocata e senza carta di circolazione Il mezzo è stato sequestrato Un 24enne dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale Il ragazzo ha cercato di eludere il controllo di polizia alla guida di un ciclomotore in compagnia di un altro soggetto Nonostante l'alt imposto dagli agenti è fuggito a velocità sostenuta e con manovre spericolate per le vie della città creando pericolo alle persone e ai veicoli Diffamazione è invece l'accusa mossa ad un 31enne Un 26enne dovrà rispondere di inosservanza a degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria e quindi di non associarsi a pregiudicati o a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza Il fatto è stato accertato a Gela Lo scorso 14 novembre durante un controllo nella sua abitazione è stato trovato in compagnia di un pregiudicato Un calabrese di 31 anni è stato denunciato per truffa Nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti in particolare nei luoghi di aggregazione dei giovani 4 minorenni e 2 maggiorenni sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta sequestrati dosi per uso personale di 10 grammi di mariana e 4 di hashish 5 minorenni e 2 maggiorenni sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta 5 minorenni e 3 maggiorenni sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta